Buongiorno, l'infezione da Helicobacter pylori nello stomaco è una delle infezioni più diffusi in tutto il mondo. Si calcola che anche in Italia circa il 50% della popolazione ne sia affetto e nei paesi in via di sviluppo addirittura il 70, 80, 90% delle persone è colpita da questa infezione a livello dello stomaco. L'Helicobacter pylori è un batterio che al contrario di quanto si è ritenuto fino agli anni 70, 80, riesce a vivere estremamente bene in un ambiente che si riteneva del tutto sfavorevole alla crescita dei batteri, cioè l'ambiente gastrico che è un ambiente acido, quindi è assolutamente poco ospitale alla crescita di batteri. Dopo varie ricerche invece negli anni 80 si dimostrò che l'Helicobacter pylori non solo viveva nello stomaco, ma spesso ci viveva anche bene, ma spesso purtroppo causava anche delle patologie legate alla sua infezione dello stomaco anche gravi, quali le gastriti, importanti, le ulcere e le complicanze delle ulcere stesse, quali il sanguinamento dell'ulcera, la stenosi, una serie di complicanze che l'ulcera può dare. Va detto tuttavia che in molti soggetti la convivenza tra soggetto ospite dell'Helicobacter pylori è una convivenza pacifica, tranquilla, senza causare queste tipologie di danni e che cosa sia o quali siano i motivi per cui nella grande maggioranza dei pazienti la convivenza è pacifica e in una minoranza la convivenza invece è molto bellicosa con i danni che abbiamo detto prima, le ulcere, le gastriti, addirittura si ritiene che a lunga distanza ci possa anche comparire come complicanza terminale un cancro, un carcinoma dello stomaco non è conosciuta ad oggi, ci sono evidentemente delle differenze nei tipi di ceppi di batterio o nei tipi di reazione dell'ospite che possono diciamo così differenziare questo tipo di risposta. I sintomi tipici dell'infezione sono quelli della gastrite, un dolore epigastrico, dell'ulcera, dopo mangiato o a stomaco vuoto in maniera abbastanza variabile dipendente dal soggetto a soggetto.